Vabbè intanto vi ringrazio per essere qua e per averci dato la possibilità di raccontare la nostra storia e la storia di questo comitato nato un anno fa, però quello che diceva Antonio è effettivamente lo spunto che ci ha fatto iniziare la nostra lotta nel Maxi Polo, perché quello che è successo per Amazon ma come è successo per i grandi dell'e-commerce è stato grazie alla pandemia un enorme incremento dei propri capitali e un enorme incremento della presenza non solo economica ma anche proprio nei territori che viviamo ed è quello che è successo ad aprile dello scorso anno quando ancora la pandemia era in corso, però ovviamente Amazon sapeva già e lo si vedeva benissimo quanto si sarebbero incrementati e quanto ancora si stanno incrementando il patrimonio di questo big della Silicon Valley e dopo a partire da questo infatti ad aprile dello scorso anno ci siamo trovati nel nostro territorio del Trevigiano questo progetto da 500.000 metri quadrati che è veramente enorme come spazio, ci siamo trovati questo annuncio da parte del comune di Casale che riprendeva un progetto vecchio di 30 anni e cercava di rinnovarlo, infatti non dovrebbe neanche essere un Maxi Polo, dovrebbe essere chiamato parco tematico perché si pensava di fare una cosa tipo Garda, la nomina Bilandia ma alla fine per cavilli burocratici anche un Maxi Polo ci andava benissimo e da questo spunto è partita la nostra riflessione, abbiamo organizzato un'assemblea pubblica in un prato a Casale sul Sile dove si doveva costruire questo Maxi Polo molto partecipata con cui siamo riusciti a costruire un primo tassello per il comitato però diciamo che non abbiamo neanche avuto il tempo di finire di studiare quel progetto che subito a ruota altri magazzini di Amazon sono stati annunciati, infatti partivamo da un singolo magazzino prima della pandemia, adesso il conto arriva a nove magazzini, tra qui il Maxi Polo di Casale che sono 500.000 metri quadrati e il Polo di Roncade che sono la metà, sono 200.000 metri quadrati, ossia un consumo di suolo altissimo e quindi così il nostro comitato si è trovato a dover si evolvere molto velocemente, partendo da un singolo progetto che voleva essere anche una rivendicazione territoriale singola che parlasse di quello specifico Maxi Polo, ci siamo trovati invece davanti a un problema molto più grande perché quello che ci comunicavano tutti questi annunci è una volontà e anche una voglia di predominio molto più alta da parte di questa multinazionale che non solo in Veneto ma anche sentendo i ragazzi di Trento, i ragazzi di Colleferro, Giora Roma, i ragazzi anche di Brescia e anche di molte altre città abbiamo visto che anche per loro la situazione analoga, che durante la pandemia si sono trovati questo annuncio, annunci di nuove costruzioni di magazzini e anche loro si sono dovuti, hanno dovuto tirare sugli scudi per difendersi da questo attacco. Ecco diciamo che la prima cosa che ci è venuta in mente a noi nel momento in cui abbiamo dovuto affrontare questo complesso, perché ovviamente adesso non si può più parlare del solo Maxi Polo, si deve parlare di tutta Amazon e quindi davanti a questo noi ci siamo, la prima cosa che ci è venuta in mente è dire vabbè Amazon sta facendo una grande opera in Italia, è la grande opera, una nuova grande opera in Veneto e ce la gestiamo così, però purtroppo per quanto a livello di intervento non solo territoriale ma anche poi di impatto sociale e economico che questo avrà sui nostri territori è molto di più diciamo di una grande opera, perché se le grandi opere le conosciamo per avere tempi lunghissimi, per avere uno specchio di denaro altissimo e per risultare alla fine anche abbastanza inutili tendenzialmente, ma quello di Amazon invece è un vero e proprio attacco. Se parliamo del magazzino di Treviso, la città da dove vengo io, l'annuncio è stato di due mesi e mezzo fa e adesso c'è già il magazzino che è suo ed è già costruito, si parla di una cosa molto più veloce che rischia di veramente sconvolgere i nostri territori senza che neanche ce ne accorgiamo perché alla fine è facilissimo perdersi l'articolo di giornale che ti dice che costruiranno l'ennesimo marxipolo, l'ennesimo magazzino della logistica, però il rischio concreto è che da qua a pochi anni ci ritroveremo con città che saranno completamente assoggettate a queste multinazionali, poi ovviamente noi prendiamo Amazon perché è simbolo e perché è quello che più probabilmente si instaurerà a Casale e di sicuro si instaurerà nel Veneto ma non è solo Amazon, Amazon è la punta di diamante di questo sistema, veniva detto prima ovviamente i comitati nel momento in cui si inizia a fare domande si capisce subito che il problema non è il singolo progetto, non è la singola vertenza ma è un modello di sviluppo sbagliato, cioè un modello di sviluppo che non tiene conto della cura delle persone, non tiene conto di un futuro migliore per tutti e tutte, infatti quello che porterà Amazon sarà ricchezza per poche persone, ci sta, bella per quelle persone, ma per tutto il resto sarà un lavoro precario, un consumo di suolo altissimo, un inquilamento dell'aria ancora più alto perché sono camion e più magazzini ci sono più camion ci saranno per quanto a volte cerchino di far finta che in realtà i magazzini servono per far girare meno camion e un altro problema è anche quello delle risorse d'acqua, questo diciamo che è più specifico a Casale perché a Casale il maxipolo si vuole proprio costruire sopra una falda neanche molto interata, proprio a mezzo metro dalla superficie e quindi ci permette di parlare anche di quello. e diciamo la difficoltà quindi andando anche un attimo a chiudere, cercherò anche nel raccontare questa complessità delle lotte, di questa lotta, è il fatto che Amazon in quanto simbolo di questa lotta racchiude un po' tutte le contraddizioni che abbiamo sentito anche parlare durante tutta questa serata perché se penso all'acqua ne abbiamo parlato, se penso all'aria ne abbiamo parlato, se penso anche ai rifiuti, Amazon ha una pratica molto, diciamo, non penso, non so come definirla però nel momento in cui ci sono degli articoli che non sono fermi da troppo tempo e non vengono venduti, non è che li spedisce dal mittente, li butta negli inceneritori e quindi anche qua si collega anche al discorso degli inceneritori fatto prima. Quindi quello che adesso cerchiamo anche di fare noi con il maxipolo e con il coordinamento che si è creato dietro è sì cercare di seguire le vertenze singole ma anche cercare un po' di lanciare i semi per far capire quello che sta succedendo un po' dappertutto, infatti partecipare a questa carovana per noi è stato importantissimo perché metà delle città in cui passerà questa carovana sono città in cui ci sarà Amazon o in cui c'è già Amazon e quindi anche rinnovare l'invito a sfruttare questa vertenza per unirci tutti insieme e costruire una rete e andare avanti insieme secondo noi è fondamentale anche perché di sicuro noi a Casale non ce la faremo da soli a lottare contro Amazon ma di sicuro quello che ci hanno dimostrato anche le giornate del G20 è che se partiamo dalle lotte locali e ci mettiamo tutti insieme riusciamo a vincere in qualche modo o comunque dei risultati li prendiamo. Grazie mille